Ecco da questo lato si allenano i nostri giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio. Oggi è martedì, ripresa degli allenamenti per questa settimana. I nostri giovanissimi sono reduci dalla bellissima vittoria conseguita sabato scorso in trasferta sul campo del miglianico calcio. I nostri giovanissimi si trovavano sotto di due gol, ma nel secondo tempo hanno fatto una grande rimonta. Prima pareggiando con la prima rete del goleador Luca Rulli. Hanno accorciato le distanze 2 a 1 dopo il pareggio con il gol di Alex Maramieri 2 a 2 e poi ha una manciata di secondi dal termine della gara con la terza rete e la doppietta della gara sempre del nostro goleador Luca Rulli che si porta a 19 reti, 19 gol fatti in questo campionato. 3 a 2, il risultato finale sul campo del miglianico calcio. Adesso si stanno facendo una partitella in famiglia tra di loro, fa molto freddo, aria frizzante da neve, ma i ragazzi sono caldi, contenti e felici per la vittoria di sabato scorso. Grazie!